Glitterini, ciao! Io sono Lilla, oggi questo video è dedicato completamente a voi, che ringrazio uno ad uno, ed eccomi qui, ad inscatolare molti giochi, tutto grazie a voi, ma lasciatemi che parta dall'inizio, cioè da voi. Spesso mi chiedono perché vi chiamo Glitterini, ed è perché siete della stessa materia di tutto ciò che luccica, anche al buio. Da quando vi ho incontrato sono successe molte cose stupende, oggi ve ne racconto una magnifica, che è un po' una storia di Natale. Quando ho aperto il canale è iniziato a crescere molto velocemente e le aziende, lo sapete, hanno iniziato a mandarmi un pochino di giochi per farli recensire, così davanti a voi posso toccarli e dire se è bello, se mi piace, oppure no, se non ci piace e non vogliamo prenderli. Quindi, alcuni li ho messi da parte durante l'anno, quelli che ci piacevano di più, per poterli dare a chi proprio giocattoli non li aveva. Ecco, il Natale è il momento perfetto per poterli restituire, e per poter restituire tutto l'affetto che mi date, che voi date a me ogni giorno, con i commenti, con i vostri like, con i cuoricini. E così è grazie alla vostra presenza che un mega pacco è arrivato ad un'associazione di bimbi. Quindi, grazie Glitterini! Ricordate che se potete condividere è sempre un atto che rende felice e arricchisce, soprattutto noi in primis. E quando potete condividere i vostri giochi è sempre qualcosa di meraviglioso. Per cui io ho portato il vostro pacco ad un'associazione e ha reso tutti molto felici. E adesso sono io che vi auguro un felice Natale e delle bellissime feste. Buon Natale davvero a tutti e continuate a fare cose brillanti e soprattutto ad essere dei glitterini super scintillosi. Un bacio a tutti, buone feste, brillate ogni giorno, ciao! Ciao da Lilla!